Quando arrivai in Italia decisi di lavorare sodo, in campo e durante la giornata. Avevo un sogno. Pensavo di non essere all'altezza, ma sudavo. Con humiltà, il campionato WISP e l'eccellenza. Pensavo di non farcela. Sono arrivato le promozioni. In B e in A avevo un sogno. Ricordo il dribbling per la strada a Ipatinga. Io ora sono qui, in uno dei club più importanti del mondo. Per quanto tu possa essere razionale, ci sarà sempre una favola alla quale finirai per credere. Sono Rosso Nero. Sono un giocatore del Milan.